ciao io ti do il mio benvenuto in questo nuovo video oggi ti condurrò in una meditazione guidata e staremo insieme qualche minuto sarà una meditazione breve adatta anche ai principianti utile per radicarci ritornare al momento presente in qualunque momento della giornata dove sentiamo il bisogno di ritornare a noi al nostro centro perché magari siamo in un momento di stress e agitazione abbiamo proprio bisogno di radicamento di centro di calma di serenità per iniziare prima di andare nel vivo della pratica mi presento sono caterina centenari un'insegnante di mindfulness questo canale che fino a poco tempo fa si chiamava il tuo anno zero ma ora ha preso il mio nome racconta la mia storia e condivido cui consigli di crescita personale e tutto quello che faccio per prima su me stessa per il mio benessere che poi ho imparato a condividere con gli altri quindi se ti piacciono questi temi di benessere e crescita personale iscriviti al canale cliccando sulla campanellina e sotto ogni mio video troverai tutte le risorse che puoi iniziare a scaricare proprio per iniziare a prenderti cura di te a fare spazio per te nella tua vita quindi ti do il mio benvenuto bentornato ed iniziamo andiamo nel vivo della pratica e per iniziare questa pratica insieme oggi ti consiglio di trovare un posto tranquillo dove puoi trascorrere qualche minuto in modo indisturbato può essere il letto può essere il divano se senti il bisogno il tuo corpo è particolarmente stanco in questo momento ti puoi sdraiare altrimenti ti puoi sedere sulla sedia e se sei seduto sulla sedia ti invito a portare i piedi a contatto con il pavimento le mani sulle cosce con i palmi o verso il basso o verso l'alto se sei seduto per terra come me ti invito ad incrociare le gambe mantenendo comunque la schiena eretta morbida quello che conta appunto che la nostra schiena sia comunque eretta proprio per permettere all'energia di circolare durante questa pratica e ti invito a portare leggermente il mento in avanti le spalle sono morbide e quando hai trovato la tua posizione questa posizione dove ti senti a tuo asio che per te ispiri dignità puoi iniziare a chiudere gli occhi e chiudendo gli occhi inizia a controllare il tuo volto se la fronte è contratta le tempie la mandibola e contratta la bocca e mano a mano lascia andare le tensioni dal viso rilassa il volto rilassa la bocca la gola e scendendo nel tuo corpo senti se ci sono delle contrazioni nelle spalle lascia andare le spalle morbide lasciale cadere rilassa anche la pancia lo stomaco l'interno dello stomaco e sentiti come depositare sulla superficie spesso la sensazione che si ha nella meditazione proprio come se piano piano iniziassimo a depositare le nostre emozioni le nostre sensazioni il turbinio di pensieri piano piano tutto questo si andasse ad agiare dentro di noi quindi piano piano la nostra situazione diventa più calma più limpida più trasparente e quindi piano piano sentiti proprio ad agiare sulla superficie lascia andare le tensioni le contrazioni nel corpo e sentiti radicato in questa posizione ben attratto dal centro della terra e per fare questo nota i punti di contatto del tuo corpo i punti di contatto con la superficie nota anche il calore delle tue mani e il loro peso sulle cosce puoi notare altre sensazioni come magari vestiti che porti addosso l'aria fresca sulla pelle in questa scansione del nostro corpo iniziamo proprio a radicarci dentro di noi a dimorare nel corpo quando spesso la mente invece vaga è lontana dal corpo in questo momento quello che puoi fare è proprio concederti il permesso di essere presente qui in questo momento senza nulla fare se non non quello di ascoltare e connetterti profondamente e quindi ti invito proprio a lasciare andare ogni tensione a depositare te stesso nel tuo corpo e a sentirti essere qui in questo momento sentire il peso del tuo corpo e piano piano momento dopo momento che il corpo si rilassa la mente si fa più calma e concentrata ti invito a portare la tua attenzione al flusso naturale del tuo respiro andando a cercare il tuo respiro senza modificarlo né controllarlo prova a cercare quella parte del corpo dove per te è più evidente il passaggio del respiro dove senti per esempio che il tuo addome o il tuo petto si gonfiano e si sgonfiano ogni volta che l'aria entra senti che l'aria entra dal naso arriva nell'addome e fuoriesce dal naso e ti invito a seguire questo movimento naturale con le sue sensazioni epidermiche seguendo ogni ispiro ed ogni espiro momento dopo momento e ogni volta che la tua mente si distrae per un suono per un rumore o magari per un pensiero qualcosa che deve fare dopo che è successo ieri non è un errore così che funziona la nostra mente puoi notare dove la mente è andata e con gentilezza e pazienza riportarla a sentire il respiro a sentire quel flusso il respiro è un'onda che ci attraversa un'onda che ci radica al momento presente ed è sempre a nostra disposizione in qualunque momento puoi fermarti e riconnetterti al tuo respiro che ti aiuta a tornare al qui ed ora e prova a notare anche che c'è una piccola pausa tra un respiro e l'altro e che momento dopo momento il respiro si fa più leggero, più soffice a volte quasi impercettibile più che il corpo si rilassa e più che il respiro si fa leggero e quindi rimani in questo stato di quiete e di calma in contatto con il flusso naturale del tuo respiro ancora qualche momento di qui alla fine della pratica sentendoti connesso a questa ombra connesso a questa onda radicato in questa posizione centrato in pace ricordando che ogni volta che la mente si distrae il respiro è la tua ancora di salvezza e quindi e se ti va puoi rimanere anche ad occhi chiusi a continuare questa pratica altrimenti puoi aprire gli occhi e iniziare a ritornare in contatto con il corpo fare dei piccoli movimenti ti invito ad alzarti con calma e a procedere nella tua giornata dopo questa pausa di riconnessione, di calma e di recentratura io ti ringrazio per avermi seguito in questa pratica ti invito di nuovo a seguirmi iscrivendoti al canale e a scaricare poi qui sotto le mie risorse gratuite ci vediamo ai prossimi video